Grazie a tutti insieme a Laura Vidali, Federico Panchero, Maura Fene e poi Isabetta Radice, Giovanni a tutti, tutti quelli che stanno dentro a questo teatro, che fanno questo teatro una bella, un bel gioiello le nostre sarte che sono qui dietro, vai Giussi, grazie, fatevi vedere voi perché avete bisogno di farvi vedere prego, prego, fatevi vedere Poi abbiamo una cosa molto importante da dire, voglio fare un ringraziamento speciale, ho tutto scritto qua perché altrimenti non mi ricordavo proprio niente, al mio cane parto, grazie Vabbè, parte, oggi, oggi si piava di su Wow, Max, perché stai scemo? Come lo fa? A Baia Un ringraziamento al MECAM! Grazie MECAM di Milano! Questa manifestazione internazionale, che cos'è? A parte del MECAM Ma non ci sono fatte le scarpe, non ci sono fatte le scarpe, non ci sono fatte, non ci sono fatte Grazie MECAM, grazie, aspetta, attenzione Ehm, dove stanno? Ah, il presidente MECAM, Annalisa Pilotti Al direttore Paolo Borghini Che sono a 4 setti, alzate la mano, fatevi vedere Eccoli qua in seconda fine, grazie E l'amministratore delegato, Dommaso Calcellana, grazie, grazie E poi, questa sera, abbiamo una big surprise, because I'm sorry for my English, I'm sorry for my Italian There is a wonderful man, with other wonderful people Producers from America, from Broadway And it's Ron Fierstein, grazie, thank you To stay here with us Il fratello di Albert Fierstein, che ha scritto il testo Thank you, Ron Thank you, your wife, everybody To stay here with us In this wonderful production of Diki Borg